Abbiamo parlato di gare, un punto caritico che è assolutamente da rilevare rispetto a tutti quelli che sono stati sottolineati qui al forum CIG? Probabilmente i punti che dici ce ne sono tanti. Uno è fondamentale per le future gare e capire quale debba essere il trattamento dell'indennizzo da riconoscere al gestore uscente e questo è sicuramente il tema fondamentale perché naturalmente tutte le previsioni contenute nelle vecchie concessioni postulavano che la scadenza sarebbe stata una scadenza ben maggiore rispetto a quella che oggi è imposta per legge. E quindi tutte quelle previsioni, mi riferisco per esempio alle previsioni di devoluzione gratuita degli impianti a fine rapporto, oggi non valgono più perché la controprestazione dell'amministrazione, cioè quella di consentire di arrivare fino alle scadenze originariamente previste, non si verifica più. E allora in mancanza di qualsivoglia a questo punto possibilità di ricondurre ad una volontà espressa dalle parti perché ciò che si era detto magari vent'anni fa oggi non si può più verificare perché sono cambiate le condizioni, deve trovare sicuramente applicazione, una norma che c'è ed è ben precisa che è l'articolo 15,5 del decreto letta che dice che in questo caso si applica un vecchio testo unico del 1925 che prevede la valutazione a stima industriale di questi impianti. Quindi ovviamente la trasformazione, ma per queste ragioni, degli impianti da devoluzione gratuita a devoluzione onerosa ma perché appunto sono completamente cambiate le condizioni economiche, le condizioni contrattuali e i presupposti giuridici. Un altro punto critico è sicuramente quello legato invece alle durate delle concessioni. Su questo tema oggi forse il Ministero sta chiedendo ai concessionari di individuare le loro scadenze e dando dei suggerimenti su quelle che possono essere le scadenze sta forse creando più confusione di quanta non sia già presente, di quanta non sia necessaria già in un contesto come quello attuale. Perché? Perché ancora oggi non esiste un'interpretazione univoca di queste norme di legge che sono assolutamente spesso discordanti, comunque non armonizzate. Nel Ministero ha competenze a norma di legge per definire queste cose. Questo significa che si va spesso a impattare su accordi contrattuali già magari definiti tra amministrazioni e concessionari con le conseguenze che si possono immaginare. E allora se queste richieste degli ultimi tempi del Ministero ai concessionari di capire quali siano le scadenze sono preordinate a definire un quadro chiaro di programmazione delle future gare probabilmente c'è un modo pacifico, chiaro per risolverlo che in genera contenziosi si muove da punti fermi. Qual è in questo modo? Anziché tenere in considerazione le scadenze cosiddette opeleggis perché non c'è unitarietà di visione come si interpretino le norme oggi su questo tema basterebbe prendere in considerazione quelle che sono invece le scadenze originari e naturali delle concessioni su quelle non c'è nessun dubbio, non c'è nessuna possibilità di interpretazione e diventano un criterio oggettivo, univoco e assolutamente trasparente per far partire la programmazione delle gare negli ambiti.